Non si placa l'ondata sismica che sta investendo la Campania. Dopo una giornata quella di lunedì all'insegna di diversi movimenti tellurici nel Sannio, che si sono poi conclusi nella tarda mattinata, alle ore 13.38 con Epicentro, San Leucio del Sannio, nella notte intorno alle 3.54 un enorme boato ha investito il centro-sud Italia. La scossa di magnitudo 6.5 ha avuto come epicentro, a circa 10 km da profondità, tra Shayak e Durazzo, in Albania. Nella capitale tiranna la gente è scesa in strada, in peda al panico. A Durazzo e Tunama sono crollate case e palazzi, ci sono vari dispersi, 150 feriti e persone sotto le macerie. Nonostante la distanza, la scossa è stata avvertita anche in Campania, oltre che in Puglia e Basilicata. Letti e Lampadari hanno tremato per alcuni secondi. Temendo che l'evento sismico fosse legato al Visuvio e ai campi Flegrei, i cittadini di Napoli e Torre Inunziata hanno chiesto informazioni all'osservatorio visuviano, che ha subito fornito i dati in tempo reale. Il pensiero ora va ad adozioni antisismiche, le novità previste dalla legge di bilancio 2019, riguardanti i mutui e immobili, quali ad esempio l'eco bonus, il bonus verde, il sisma bonus e le concessioni per lo sviluppo alie e rurali. E proprio del sisma bonus, alla BTV ne ha parlato la docente dell'Unisannio e direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Ateneo Sannita, Maria Rosaria Pecce. È già da più di un anno che è stata data l'opportunità anche ai privati, e quindi per le abitazioni private e per i condomini, di avere un finanziamento pubblico per poter mettere a norma la propria casa nei confronti del sisma. C'è anche un eco bonus per l'aspetto energetico. Però le applicazioni per adesso sono poche, come se i privati non volessero investire su questo aspetto della sicurezza della propria casa, ma poi di contro pretendono solo che dal punto di vista pubblico le opere siano adeguate. Ma in realtà poi se i bambini non stanno a scuola, stanno a casa.